Ciao ragazzi, io sono Riccardo Bentoratini, il mio canale YouTube nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò la recensione della smerigliatrice angolare da 125 mm della TIS Wall. Di questa ho già fatto un unboxing, lo troverete in un video che vi lascerò qua su nelle schede, che ho realizzato durante la recensione della levigatrice a delta, sempre della stessa marca. Questa smerigliatrice, ragazzi, mi ha stupito perché è piccola, compatta, costa poco, costa 40 euro, e cercherò di farmi dare anche un codice di sconto per farvelo pagare di meno, e riesce a lavorare benissimo. Vedrete come riesce a tagliare perfettamente un dondino da 16 mm, senza battere il ciglio, come riesce ovviamente a tagliare senza nessuna difficoltà un angolare da 2 mm e mezzo, come riesce a rimuovere dei cordoni di saldatura sgrossando, e come con un accessorio spazzola metallica riesce tranquillamente a pulire il mio mini panchetto di saldatura, portandolo da un condizioni pietose, era pieno di scorie e insomma era rovinato, lo ha fatto ritornare nuovo, lucido e pulito. Quindi adesso guardiamo la recensione, guarderemo le cose più concrete che servono a capire se questa smerigliatrice funzionano o no, ma ve lo anticipo, funziona e funziona bene. Quindi mettiamoci sul bancone e vediamo le prove che ho realizzato. Iniziamo. E allora ragazzi, iniziamo questa prova direttamente tagliando questo tondino da 16 mm, ma voglio dimostrarvi effettivamente la potenza di questo utensile. Quindi indosso gli occhiali, ho già indossato le cuffie, guanti e anche il cappellino. Allora, iniziamo. Sto utilizzando un disco economico della Parkside per metterla ancora più in difficoltà. Come avete visto, riesce ad affettare senza nessun problema il metallo, con un taglio nettissimo. con un disco economico e questo sicuramente è uno spessore abbondante. Diciamo che all'interno di un laboratorio di robista, questo spessore è difficile che venga tagliato, ma nel caso in cui sia necessario, questo utensile ci riesce, nel caso in cui fosse necessario. Adesso tagliamo pure questo angolare, che ha uno spessore di 2 mm e mezzo, partendo dall'angolo, dove ovviamente è più spesso. su questo stesso angolare sono presenti dei cordoni di saldatura, che adesso proveremo pure a sgrossare. E allora ragazzi, tagliato anche questo di netto, ovviamente, senza nessun problema. Molto, molto veloce. Questo già come tipo di lavoro è molto più comune all'interno sia di un laboratorio, ma anche a livello professionale. Molto, molto più frequentemente si tagliano pezzi di questo spessore che pezzi da 16 mm. Adesso metto il disco da sgrosso, sostituisco la protezione, perché come vi ho fatto vedere nell'unboxing, questa smerigliatrice ha la protezione che ci permette di lavorare in sicurezza montando il disco da taglio, perché essendo più coprente, ovviamente, para sia i detriti che si possono fermare durante i tagli e ovviamente anche le scintille. Quindi mettiamo la protezione, che essendo aperta ci permette di utilizzare dischi da sgrosso, dischi lamellari per poter togliere il ruggine, eccetera. E ovviamente per fare questo procedimento bisogna assolutamente togliere l'alimentazione elettrica, perché potremmo involontariamente premere il tastino, se si avviasse ci faremmo sicuramente male. Quindi, rimossa l'alimentazione, procediamo con il cambio del disco e della protezione. Premo il tasto nella parte posteriore, blocco quindi la rotazione del disco e con una chiave già in mio possesso, ovviamente viene data in dotazione anche un'altra chiave, ma io utilizzo questa, perché sono più abituato ad utilizzare questa, poi è più lunga e mi richiede meno sforzo. Nel caso in cui non dovesse chiudersi, con una chiave a brugola, allentate questa vite, ok, deve stringere tanto quanto basta per impedire che questa protezione possa ruotare da sola con le vibrazioni. Questa volta utilizzerò il disco che viene dato in dotazione. Ovviamente ricordatevi che l'etichetta va messa sempre rivolta verso la parte interna della smedigliatrice. Nel caso in cui si utilizzino dischi di questo spessore, questa parte va avvitata con la sporgenza verso giù. Dopo aver montato il disco, prima di utilizzarlo, avviatelo a vuoto e osservate se gira bene. Ok, questo è un disco che si può utilizzare tranquillamente. Volevo farvi vedere anche la sua partenza, con una sorta di soft start. Parte praticamente in modo assistito, non di scatto. E questa è una cosa, secondo me, su un utensile di questo tipo, è molto comoda, perché di solito all'avvio danno un contraccolpo che per me è fastidioso. Adesso proviamo a togliere questi cordoni di saldatura. ragazzi, decisamente un ottimo lavoro, eseguito in pochissimo tempo. Allora ragazzi, di solito io faccio l'unboxing e la spiegazione dell'utensile, tutto in un unico video. Avendo già fatto l'unboxing nel video precedente, qualcosa potrebbe sfuggirmi. E mi stava sfuggendo di dirvi che questo è il tastino di accensione. Per avviare la smedigliatrice, che per adesso è con la spina staccata, bisogna portare in avanti questo tastino. Basta semplicemente spingerlo. Se lo rilasciamo, rimane nella posizione di on. Premendo la parte posteriore, semplicemente con un colpetto, si spegne. Ma ha un sistema di sicurezza davvero fantastico. Vi faccio vedere. Io accendo la smedigliatrice, attacco la spina e la smedigliatrice non parte, perché ha il sistema di sicurezza che prevede l'avvio solamente con la pressione del tasto dopo aver collegato l'alimentazione elettrica. Quindi attacco la spina e vedrete che la smedigliatrice non si avvia. Ok. Adesso la spina è attaccata, la smedigliatrice non è partita. Questa è una cosa ottima. Perché purtroppo alcune smedigliatrici partono appena si collega all'alimentazione elettrica. E voi penserete, perché il tasto deve rimanere in posizione di on? Se la smedigliatrice con la spina staccata, vuol dire che io ho finito di lavorare, quindi l'ho messo su off. È vero. Ma può succedere pure di staccare il cavo involontariamente. Magari stiamo utilizzando una prolunga, diamo una pedata al cavo e si stacca. Oppure va via temporaneamente la corrente mentre la stiamo utilizzando e di conseguenza il tasto rimarrà in questa posizione. Al riavvio della corrente elettrica, la smedigliatrice partirebbe da sola. Quindi adesso stacco, metto su off. Mettendo su on, la smedigliatrice partirà regolarmente. E questa è davvero una cosa positiva. Un sistema di sicurezza molto molto importante. Ovviamente è una filettatura standard m14 che ci consente di utilizzare gli accessori che si possono evitare lo stesso perno, quindi seghe a tazza eccetera. Utilizziamo questa spazzola metallica per pulire il mio banchetto di saldatura, mini banchetto di saldatura che è in condizioni pietose. Mi raccomando di controllare sempre il numero di giri che può supportare e tollerare l'accessorio che monterete. Questa smedigliatrice a 12 mila giri al minuto e l'accessorio sopporta tranquillamente questo numero di giri. Quindi lo avvio. Ovviamente proteggetevi per bene perché questo tipo di spazzole proietta filamenti un po' ovunque. Quindi fate davvero attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ragazzi davvero un ottimo lavoro banchetto come nuovo adesso devo solamente rimuovere questi cordoni per il resto lucidato e pulito a perfezione e allora ragazzi cosa dire di questa smerigliatrice angolare mamma mia io già sono brutto di meno poi con queste protezioni non mi si può guardare allora cosa dire di questa smerigliatrice angolare come avete visto funziona bene ve l'avevo anticipato è compatta massiccia ma anche un ottimo peso che dà una buona sensazione di solidità e costa poco per quello che riesce a offrirci è davvero un ottimo utensile non vi ho fatto vedere che l'impugnatura può essere ovviamente montata da una o dall'altra parte perché comunque alla filettatura anche da questo lato cosa dire secondo me sei cercato una smerigliatrice angolare allora date un'occhiata al link che metterò giù nel primo commento nella descrizione per poterla acquistare detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella per iscrivervi al canale e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto